Buonasera a tutti da Andrea Tedeschi, siamo al Paladozza, quart'ultima giornata del campionato di Serie A2 per il Giron Est. L'appuntamento è delicatissimo. La Fortitudo Consulting sta a fronte a Montegranaro in quella che è una partita che vede i bianco-blu voler interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive, ma Montegranaro è lì a due sole lunghezze di distanza in classifica. La Fortitudo gioca per consolidare il secondo posto in graduatoria, con un occhio anche al primo posto che appartiene ancora a Trieste, ma perdere questa sera vorrebbe dire con tutta probabilità trovarsi tra un paio d'ore al quarto posto in classifica. Una partita quindi che ha mille contenuti tecnici che andremo ad analizzare fra poco, ma ovviamente, mentre per chi ci segue in diretta televisiva su TRC, canale 15 del Digitale Terrestre, vedete quella che è la coreografia della curva Gary Baronshull, della Fossa dei Leoni, che viene effettuata in questi minuti, ma dicevamo, mille naturalmente anche i contenuti emotivi. Di una partita che vede debuttare sulla panchina della Fortitudo Gianmarco Pozzecco, entrato il posto a 13 minuti dall'inizio della partita, standing ovation assoluta, le lacrime di emozione per Gianmarco Pozzecco che vedete in questo momento inquadrato. I sentimenti termineranno fra 13 minuti, o meglio, tra due minuti, 13 minuti quando è entrato il posto, perché ci sarà tremendamente da fare sul serio, perché accolto con un'assoluta standing ovation, Matteo Boniccioli è stato costretto a fare un passo indietro, e per Matteo Boniccioli il nostro primo saluto, il nostro primo abbraccio di serata, sappiamo che ci sta guardando tre anni e mezzo con Matteo Boniccioli in panchina, nei quali la Fortitudo si è letteralmente trasformata. Matteo Boniccioli non ha avuto la possibilità, almeno per il momento, di portare a compimento la sua missione, ma sono stati e sono tre anni e mezzo indimenticabili. Poi a fine anno le parti, ovvero sia coach e società, torneranno a parlarsi, ma ovviamente c'è Gianmarco Pozzecco, si apre un percorso importante, un percorso che subito deve portare la Fortitudo a cercare di raggiungere l'obiettivo primario, non sarà facile per il POF, ma aveva lui voglia di rimettersi in discussione, ha subito detto sì, ci sono Charlie Recalcati, Pierluigi Collina, tanti VIP questa sera ad assistere al suo debutto, e al mio fianco, coach Massimo Magri, che saluto, che quando ha visto l'abbraccio tra Pozzecco e Recalcati, insomma, secondo me qualche pensiero l'ha avuto e gli è ritornato al Palaverde a quel 30 maggio del 2000, Massimo. Beh, certo, i ricordi sono sempre molto vivi, fatemi fare un saluto a Boniccioli, che sicuramente non sarà felice questa sera, ovviamente perché è un augurio anche di rimettersi al più presto, perché questa in fondo è la sua creatura, sono più di tre anni che lavora con questa squadra, quindi penso che il suo pensiero su questa squadra, questa sera sarà comunque sempre un po' complicato. Detto questo, sì, c'è questa novità, perché qui non ci facciamo mancare niente, prima l'esordio di uno straniero, dopodiché l'esordio di un nuovo allenatore, chiaro che la vita continua, quindi c'è l'esordio di Pozzecco, sicuramente per lui un impatto emotivo fortissimo, con il sostegno di Charlie, che è un po' il suo padre putativo, lo era quando lo era giocatore, probabilmente lo è anche ora da allenatore, quindi sicuramente è venuto a sostenerlo, è un abbraccio anche a Charlie che sicuramente gli avrà dato qualche consiglio. Però la partita è impegnativa, l'approccio è importante, per Pozzecco sarà anche la cosa più difficile, riuscire a capire velocemente tutte quelle che sono le sfumature della sua squadra, perché ovviamente partite anche tirate, vogliono dire, conoscere bene i propri giocatori e quello che possono dare. Avete visto, per chi ci segue in diretta televisiva, la coreografia della Forza dei Leoni, anche con in precedenza lo striscione di ringraziamento per il lavoro effettuato da Matteo Boniccioli, e quello ovviamente di buon lavoro per Gianmarco Pozzecco, poi gli striscioni su quelle che sono state le recenti diffide che hanno colpito alcuni elementi del gruppo, è un momento non facile per la Forza, ma naturalmente il loro calore e la loro passione va al di là di qualunque possibile insidia, ne siamo fermamente convinti, bellissimo anche l'abbraccio adesso fra Gianmarco Pozzecco e Valerio Amoroso, dicevo Massimo, spazio per i sentimenti, ma si gioca per due punti adesso dal peso specifico totale, e allora seguiamo il match che sarà diretto dagli arbitri Bartoli, Caruso e Wasserman, i quintetti per la fortitudo che non ha Giovanni Pini, oggi c'è Pini in tribuna per la legge del turnover, per la fortitudo Occhera, Forcinciarini, Mancinelli, Rosselli e Gandini, per Montegranaro che va al tiro e sbaglia il primo tiro di serata con Powell, ma c'è l'extrapossesso favorito da rivali, Campogrande subito da tre, sbaglia anche lui e questa volta rimbatte di Mancinelli, c'è anche Valerio Amoroso assieme al numero 21 dei padroni degli ospiti, che è la Marshall Corbett, attenzione, stiamo parlando di quello che è il quinto canoniere del campionato, 30 secondi giocati, un errore da una parte, un errore dall'altra, Campogrande e Amoroso applauditissimi, la penetrazione di Campogrande, che ovviamente vuole dimostrare tante tante cose questa sera, bravo Kerafor a intendere il passaggio che era diretto verso Amoroso, va in penetrazione, va a realizzare il costo coste, i primi due punti della serata, bella sequenza del mio arrivato in fortitudo. Beh sì, inizio sicuramente intenso, la difesa da fortitudo molto concentrata, particolarmente aggressiva anche sui pick and roll, e quindi altissima motivazione da parte dei giocatori a volere dare l'impulso giusto su questa partita. La penetrazione, l'errore al tiro, ma il fallo commesso da Luca Gandini, attenzione all'esplosività di Martian Power, che andrà in lunetta con due tiri liberi, non tutti gli accoppiamenti difensivi in quello che è questo avvio, con la difesa individuale possono essere semplici, Monte Granara probabilmente la coppia di stranieri più forte del campionato, e va in lunetta con i primi due tiri liberi di serata. Beh certamente la marcatura di Gandini non è la più comoda, perché ha di fronte a sé un giocatore molto molto reattivo, soprattutto come in questo caso nelle penetrazioni frontali, lui non ha i piedi velocissimi, quindi qualche volta può essere in difficoltà su queste situazioni. Uno su due dalla lunetta per Power, è il primo punto di serata per Monte Granaro, le indicazioni dalla panchina di Gabriele Ceccarelli, uno degli allenatori più emergenti, se non il più emergente di queste ultime due stagioni, solo 31 anni per il coach nativo di Rimini, bella palla sotto per Gandini, dentro l'area si gioca l'uno contro uno, semigancio Mancino a segno ben fatto, 4 a 1 fortitudo. Buonissima circolazione di palla, sul ribaltamento di palla subito palla sotto Gandini, molto bene, ovviamente lui contro il suo avversario diretto, ha più fisico, ha più peso, deve sfruttarlo come ha fatto in questo caso. Rivali, bene Gandini nel rientro, difensivo dopo il picchi a roll su Power, il campo grande, la penetrazione, la palla persa, l'intervento di Mancinelli, dietro schiena per Rosselli, può ripartire la fortitudo con Rosselli, che supera la metà campo, poi torna sui propri passi, ha spazio per la tripla centrale, la prende, la manda avversario, e Pozzecco è praticamente, già a metà campo, per il 7 a 1 fortitudo dopo due minuti. Beh, l'impatto difensivo della fortitudo è sicuramente positivo, e quindi i frutti di questo piccolo vantaggio iniziale, sono dovuti soprattutto all'aggressività difensiva. Molto bene, anche qui Rosselli su campo grande, costretto a un ribaltamento di lato, va da rivali, 7 secondi per andare al tiro, Montegranaro non ha costruito nulla, deve andare nulla, palla persa da parte di Montegranaro, viene poi recuperata, si lotta, si è Rosselli che la conquista, supera la metà campo, chiama il gioco in velocità, Pozzecco, Cinciarini rischia qualcosa, deve tornare sui propri passi, mamma mia, che ritmi in questi primi due minuti, a mezzo, Cinciarini, assegno, appoggia al vetro, 9 a 1, time out obbligato, per Gabriele Ceccarelli, chiama l'incitamento della polla, Daniele Cinciarini, benvenuto Pozze e benvenuto a Fortitudo, direi questa sera. Beh, c'è una tensione particolare, questa sera c'è la novità del Pozze, il pubblico lo sente, insomma, c'è un passato che sta emergendo, anche dal punto di vista emotivo, e quindi, diciamo che la squadra, per il momento, sta seguendo bene questo impatto emotivo. Devo dire, eccellente anche a mio modo di vedere, quello che è stato l'atteggiamento di Gianmarco Pozzecco, in questi giorni, ho avuto modo di vedere, da mercoledì a ieri, la maniera in cui Gianmarco Pozzecco si è posto, nei confronti dei ragazzi, qualche discorso, diciamo, da ex giocatore, i giocatori lo hanno visto ancora, anche come uno di loro, poi ovviamente, attenzione spostata, sul fatto che bisognerà avere, nel corso di questi mesi, anche per l'anno prossimo, il rispetto, naturalmente, dei ruoli, perché Gianmarco Pozzecco ha lasciato, questo parquet, nel aprile del 2005, da giocatore, lo ritrova, nel, a fine marzo del 2018, da allenatore, e quindi subito, molto attento, molto, secondo me anche abile, Gianmarco Pozzecco, nel presentarsi all'ambiente, e ieri, anche nel rendere i meriti, a Matteo Boniccioli, nella conferenza, prepartita, allo stesso Stefano Comuzzo, non è da tutti dire, e non credo, passatemi il brutto termine, ma, che rende l'idea per paraculaggine, non è da tutti dire, domani sera, se le cose andranno bene, il merito sarà di Stefano Comuzzo, se andranno male, sarò io ad assumermi la responsabilità, perché sono comunque, da tre giorni, nuovo allenatore della fortitude. Beh, diciamo che sull'onestà di Pozzecco, non, ovviamente, non è, diciamo, è assolutamente conosciuta, quindi non ci sono problemi, ovviamente lui, comunque un po' di esperienza se l'è fatta, perché ha già, calcato qualche parche anche da allenatore, non l'ultima Varese, Capodorlando, eccetera, quindi è stato anche un po' all'estero, un po' di esperienza se l'è fatta, probabilmente sta anche amaturando, ovviamente, deve un po' combattere con il suo temperamento, e, chiaramente anche il suo istinto di giocatore, di ex giocatore, però, è chiaro che, ha riflettuto bene sul nuovo ruolo, che deve avere assoluto in questo caso. Viennio fondamentale, quello dal quale proviene, al Sede Vita Zagabria, conquistando due titoli nazionali, assieme al suo ex compagno di trionfi, a Varese, Veli Comersic, squadre rientrate, le errore al tiro da tre punti, di Montegranaro, tre minuti e quindici, giocati, nove a uno, per la fortitudo, che anche, palla in mano, Cinciarini, si apre Mancinelli, riceve, ingaggia un bel duello, con Amoroso, appoggia al vetro, sbaglia, rimbalzo di Powell, qui forse non ha insistito, Mancinelli poteva avvicinarsi, ulteriormente a canestro, passaggio non facile per Amoroso, Montegranaro sembra sorpresa, anche da quella che è stata l'intensità difensiva, in questo avvio di partita, messa dalla fortitudo, intensità difensiva, che può portare a qualche fallo, come in questo caso per O'Kerafor, è il terzo di squadra per i bianco e blu, a 6.24 dalla prima pausa. Sì, sicuramente, ovviamente per eccesso di agonismo, e diciamo, bisogna dare per scontato qualche fallo in più, però, la strada è questa, la fortitudo deve fare la partita, quindi anche, se ci scappa un fallo, pazienza. Primo canestro dal campo per Montegranaro, porta la firma di Campogrande dalla lunga distanza, poi con esperienza, Guido Rosselli va a procacciarci un fallo dello stesso Campogrande, il primo di serata per gli ospiti, attenzione, naturalmente, Luca Campogrande, 27 minuti di media, quelli che gli sta riservando, coach Ceccarelli quest'anno, non dimentichiamo che Montegranaro ne ho promossa, lo vedo sicuramente maturato, non dimentichiamo che Montegranaro ne ho promossa, grande stagione davvero, per gli uomini di Ceccarelli, Gandini sbaglia, ma segue a rimbalzo d'attacco sul suo stesso errore, perché lui sa dove la palla andrà a finire, e quindi 11 a 4. Per il momento non viene raddoppiato, quando gioca a spalla a canestro, ha superiori fisicità, quindi benissimo, palla sotto a Gandini. La penetrazione con lo scarico, ancora Campogrande da 3, questa volta è sbagliato, Mancinelli a rimbalzo, Comuzzo e Pozzeco in piedi, rischio di palla persa per la fortitudo, ma c'è O'Cherafor, uno dei due si dovrà andare a sedere a breve, credo che richiamo degli arbitri, arriverà Cinciarini, canestro e fallo, ci sarà l'aggiuntivo, le indicazioni di Gianmarco Pozzeco, a Stefano Mancinelli, suo compagno di squadra per 8 mesi, nell'anno del secondo scudetto bianco-blu. Gianmarco Pozzeco dice a Stefano Comuzzo, vai adesso a sederti, che alleno un pochettino in piedi io, poi ovviamente tornerà anche il tuo momento, bella anche questa staffetta tra i due, ma il Pozze mi sembra già bello carico, a dispensare consigli ai giocatori. Probabilmente nelle intenzioni c'era, fai tu, poi dopo magari esce l'istinto. In ogni caso molto bene la fortitudo nell'attaccare l'area di Monte Granaro, Monte Granaro fatica tantissimo, a parte un paio di errori di Mancinelli, però attacca molto bene l'area e quindi sa ottenere ottimi risultati proprio in penetrazione. Sbaglia Cinciarini l'aggiuntivo, è andato con l'esperienza in questa sua prima partita. Gianmarco Pozzeco nel quintetto base, Amoroso prende la linea di fondo, ma Mancinelli difende bene, poi Amoroso appoggia al vetro e va a realizzare, sfruttando il corpo, il sesto punto di Monte Granaro. 13 a 6, secondo canestro dal campo per i marchigiani, sotto da Gandini, sempre isolato in uno contro uno, Gandini ne approfitta, va al tiro, sbaglia, reclama per un fallo che non c'è, contropiede per Monte Granaro, rivali che all'andata fece non male, ma malissimo alla fortitudo. Powell riceve a rimorchio, step back da 3, sbaglia, la lotta a rimbalzo favorisce però sempre Monte Granaro, sotto da Amoroso, buona doppio difensivo della fortitudo, rivali, 8 secondi per andare al tiro, penetrazione, O'Kerafor non difende bene, il tiro da 3 punti di Corbett, questa volta mandato a bersaglio, seconda tripla per Monte Granaro, parziale di 6 a 0, meno 4 poderosa. Allora, è sempre abbastanza aggressiva la difesa di fortitudo, però ogni tanto si perdono l'uomo e quindi quello che rimane libero può avere dei vantaggi, quindi massima concentrazione deve rimanere alta, altrimenti Monte Granaro ha sicuramente mani buone. Mancinelli sotto per Gandini, il tocco della difesa, non vengono, mi sembra, riciclati i 14 secondi, cambio per la fortitudo, il primo di serata, entra in campo Matteo Chillo al posto di Luca Gandini, applaudito dal pubblico per la sua consueta sostanza, concretezza e generosità, c'è un cambio anche per quello che riguarda Monte Granaro, l'uscita di Powell e l'ingresso in campo con il numero 16 di Dario Zucca, giocatore l'anno scorso impiegato a Chieti, O'Kerafor, 8 secondi per andare al tiro, bella esecuzione, ma errore, poi segue a rimbalzo l'attacco, aveva fatto tutto bene, secondo me, peccato, perché non sono arrivati i due punti. Comunque hanno attaccato bene l'aria, anche in questo caso, un tiro un po' fuori equilibrio che non è andato a buon fine. Amoroso, fallo della difesa, evidente, fallo di Chillo, quando Amoroso riceve sulle tacche, riuscire a portargli via quella palla da dietro è in presa piuttosto ardua, ce lo ricordiamo anche e soprattutto in quella mezza stagione nella quale arriviamo a 40 minuti dalla Serie A con Amoroso. Beh, lui è un giocatore molto esperto, sa avere pazienza, sa aspettare il suo momento, sa quando deve prendersi delle responsabilità. Sbaglia Corbett, è buono, il taglia fuori di Chillo e di Rosselli sullo stesso Amoroso. Chiama la zona Ceccarelli, chiama la zona Ceccarelli, Chillo e Rosselli diventano la canestra. Vediamo che zona è perché ho visto seguire i dettagli. Sì, 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 2-3. Sì, sì, non è una matchup molto bene Cinciarini. Sembrava una matchup all'inizio, poi 2-3 è semplice ma Cinciarini l'attacca molto bene con una bella finta di corpo che va a tagliare come il burro la prima e la seconda linea difensiva. 15-9 torna a segnare la Fortitudo 3-13 alla fine del primo quarto. Fortitudo che ha 4 falli di squadra deve stare attenta non su Parli, accetta il cambio difensivo su Corbett e Chillo non è un accompiamento semplice e Corbett infatti spara dalla lunga distanza. Va a realizzare la terza tripla di serata per Montegranaro. Attenzione perché non tutti i cambi difensivi possono essere letti nella stessa maniera. Questo era particolarmente penalizzante e Montegranaro ne ha approfittato. Cinciarini penetrazione lo scarico ma la palla è persa recupero di Amoroso contropiede 2-2 Amoroso si arresta va da Gueye che è entrato in campo poco fa va a subire il fallo di O'Cherafor e ci saranno i due tiri liberi per Montegranaro perché la fortitudo è nel bonus attenzione alla pericolosità dalla lunga distanza della squadra di Ceccarelli che non ha avuto alcun tipo di timore nel vedere la fortitudo tentare il primo allungo sul più 9 a inizio partita ed è tornata subito lì meno 3 i due tiri liberi esce O'Cherafor e falso ingresso in campo Robert Fult giocatore sul quale Gianmarco Pozzecco punta molto anzi moltissimo beh sì certo lui deve dare anche di più di quello che ha dato nell'ultime partite in ogni caso Montegranaro sta dimostrando di essere un'ottima squadra in particolare nel quintetto a giocatori con grossissime capacità realizzative se cala un attimo la tensione difensiva gli permetti di fare quello che loro vogliono fare sanno andare anche a canestro in velocità e quindi grandissima attenzione ecco eh sì qui si è tentata la mossa della rimessa lunga immediata ma le squadre avversari hanno iniziato a studiarla chi lo tocca il pallone che era stato sfiorato da Montegranaro e quindi la carambola premia la poderosa e ovviamente ci si studia durante le settimane poi adesso Montegranaro ha la possibilità di impattare la partita eh sì da meno 9 ha la possibilità di impattare è entrato anche Caspar Traier ricorre alle sue ampie rotazioni anche Ceccarelli tra poco sarà il turno di amici bel recupero difensivo per la fortitudo e Cinciarini si mangia però questa è la strada giusta sicuramente contropiede quando è possibile oppure attaccare l'aria come ha fatto finora la fortitudo però tutto deve partire da una buona difesa peccato per l'errore di Cinciarini e adesso Corbett va da Traier penetrazione 1-2 ma palla persa può ripartire la fortitudo Rosselli penetrazione va al tiro sbaglia stesso rimbalzo l'attacco errore dello stesso Rosselli la fortitudo si è mangiata tre rigori da mezzo metro negli ultimi 30 secondi e questi sono errori che contro una squadra come Montegranaro non ci si può permettere di compiere in poche parole entriamo negli ultimi 90 secondi del primo quarto sempre sul 15 a 13 con Traier che sbaglia la tripla e rimbalzo di Stefano Mancinelli che sotto le plance al momento è padrone assoluto dunque vediamo se zona no sempre uomo Fult punteggio che si è abbassato la fortitudo ha segnato solo due punti negli ultimi 4 minuti e ora va a realizzare con Matteo Chilo con un ottimo gioco a leggere la disattenta difesa di Montegranaro Chilo avrà anche l'aggiuntivo Esce Rosselli ed entra Alessandro Amici attinge ovviamente anche dalla sua foltissima panchina Gianmarco Pozzecco girandole di cambi da una parte e dall'altra buona azione era il momento di sbloccarsi aggiuntivo per Chilo beh sì se l'attacco mantiene questa reattività di passaggi questa velocità di passaggi questo diciamo Montegranaro fatica dopo a schierarsi a prendere tutti gli uomini con regolarità a segno il tiro libero aggiuntivo di Chilo 18 a 13 risponde quindi con un 4 a 0 di parziale la fortitude poi Cinciarini sta per recuperare palla ottimo Cinciarini in questo primo quarto siamo entrati proprio adesso nell'ultimo minuto Powell da 3 senza ritmo infatti è un mattone terribile senza nessun giocatore in maglia bulla rimbalzo prova ad approfittare nella fortitude Cinciarini sbaglia la tripla e anche qui si era un po' scoperti a rimbalzo Cinciarini se la sentiva lo ha preso faccio fatica a condannare un giocatore per di più di quell'esperienza su un tiro del genere avevo fatto fatica a riconoscere amici non così non l'avevi ancora visto così normalizzato normalizzato mi piace sì sì non l'avevo riconosciuto adesso ci sono 10 secondi per chiudere quest'attacco per Montegranaro 36 alla fine del primo quarto chiamato in panchina Stefano Mancinelli ancora secco dal punto di vista realizzativo ma lavoro preziosissimo soprattutto nella metà campo difensiva finora e in campo Nazarene italiano 18 a 13 per la fortitude ora si è spento il tabellone del paladozza si riaccende adesso si spegne anche la difesa della fortitude anche italiano si doveva staccare dove poteva aiutare in quel caso però insomma anche sui blocchi bisogna essere più attenti canestro di Gueye per il meno 3 Montegranaro la fortitude non può arrivare fino in fondo Montegranaro ha un fallo da spendere ma farlo ora vorrebbe dire regalare alla fortitude l'ultimo possesso lo regala Fulf con questo passaggio improbido nei confronti di italiano 12 secondi brutta pala persa non bisogna regalare falli sciocchi amici deve difendere con le gambe 6 secondi per andare al tiro lo sfida Corbett da 3 sulla sirena sbaglia e termina quindi il primo quarto 18 a 15 no c'è il fallo tiro da 3 punti c'è il fallo c'è il fallo di Gueye fallo da 3 punti forse a tempo scaduto vediamo no viene assegnata rimessa e basta no e quindi nulla fallo sì ma Montegranaro non è nel bonus quindi termina il primo quarto 18 a 15 per la fortitude lì nella regia adesso di TRC e di Radio Nettuno torniamo fra poco e di Radio Nettuno per la fortitude e di Radio Nettuno e Montegranaro i 6 punti di Daniele Cinciarini da una parte dall'altra ci sono gli 8 già messi a bersaglio dalla Marshall Corbett l'anno scorso compagno di squadra di Alessandro Amici a Manto va a 14 punti di media partita molto tattica partita dicevo molto tesa Coce presumo che sarà così fino al quarantesimo beh sì diciamo che però la panchina della fortitude è un po' più lunga e quindi questo può giocare un vantaggio nel finale certamente Montegranaro ha un quintetto fortissimo i primi 6-7 i miei giocatori sono sicuramente molto molto forti quindi approfitterà di questo talento per cercare di rimanere in partita e adesso è entrato anche Maspero con il numero 13 per Montegranaro va subito in difesa su Robert Fulff bella palla per Killo forse fallo sulla conclusione nulla viene sanzionato poi Killo lotta generosamente per conquistare il rimbalzo d'attacco ma bisogna tornare in difesa Campogrande fallo in attacco da parte di Zucca che sbraccia troppo con il corpo nei confronti di Alessandro Amici Ceccarelli indica una sorta di flopping da parte dello stesso Amici ma spesso e volentieri gli arbitri quando tu cerchi di guadagnare posizione di metterti davanti in anticipo all'attaccante costuma e l'insegna insomma gli arbitri poi lo premiano anche questo tentativo di sacrificio difensivo certo Fulte supera la metà campo va da Killo 18 a 15 brutta palla persa troppe palle perse in modo anche banale sì banale non riesco a comprendere è chiaro che non è un momento facile ci sono tre sconfitte consecutive da archiviare l'avversario di questa sera non è l'ideale per poterci riuscire ma insomma la fortitudo deve ovviamente ritrovare la retta via per continuare a correre per l'obiettivo finale Nazarene Italiano penetrazione fallo della difesa evidente in ritardo Zucca che credo sia il suo secondo fallo esatto due per Zucca dall'altra parte ci sono i due di Teddy O'Kerafor non abbiamo ancora visto Demetri McCame in campo ma credo ovviamente che ci sarà spazio anche per lui sta giocando molto bene se lo togli in questo momento perdi un punto di riferimento importante a livello offensivo altra palla persa brutta non so le vorrei contare ma sono meno 4-5 assolutamente il campo grande castiga dai 3 metri in contropiede Montegranaro con le triple con i canestri in contropiedi riesce a tornare a meno uno contro la difesa schierata della Fortitudo fa fatica ma la Fortitudo sta regalando davvero troppi paloni anche perché obiettivamente l'intensità della difesa di Montegranaro si è alzata e non poco sì però non basta già giustificare tutte queste palle perse bisogna cercare di mantenere una buona circolazione soprattutto contro le difese aggressive una buona circolazione perimetrale pulita lucida mantenere attiva la palla prima o poi la difesa perde l'uomo anche perché Montegranaro non è una delle difese più solide del campionato subisce più di 78 punti di media partita quindi la Fortitudo ha tutte le carte in regola per poterla attaccare questa difesa che ora vede con amici alla tripla dall'angolo una buona esecuzione amici sbaglia ma era stato fatto tutto bene il problema è che il tiro è ampiamente fuori bersaglio e Montegranaro ha per la prima volta in serata la possibilità di portarsi avanti con questo possesso Campogrande riceve già 8 punti scusatemi 5 punti per Campogrande che serve una bella palla per Zucca che non controlla buona l'idea di Campogrande il compagno non è pronto rimesso a Fortitudo ed eccolo qui Demetri Mechemi che entra al posto di Daniele Cincerini che ovviamente necessita di riposo è chiaro coach che il motore è ancora da sistemare in queste tre settimane non ci si è riusciti bisogna naturalmente riuscirlo a fare ma i playoff si avvicinano meno di un mese si partirà con la rumba della post season intanto però c'è un piazzamento da conquistare nella griglia playoff bella la penetrazione di Amici che va a realizzare il 20-17 e chiama la difesa intensa Gianmarco Pozzecco che è la battuta me lo perdonerà della difesa intensa non era proprio un pretoriano diciamo così Powell va a realizzare il meno uno della poverosa forse si è accorto che invece è importante probabilmente da allenatore assolutamente sì lo ha detto anche ieri in sede di conferenza stampa di presentazione Fultme che mi ha penetrato va sotto da Killo il fallo da dietro di Powell bella esecuzione sì ottima circolazione di palla con i giusti angoli di passaggio su questo ribaltamento palla sotto facile in ogni caso la Fortitudo deve cercare di mantenere alta l'aggressività difensiva deve contare su una buona rotazione di giocatori perché Montegranaro le volte che è andato in difficoltà proprio perché la difesa è stata molto attenta e fisica sì anche perché finora poi le palle perse sono quasi state tutte gratuite da parte della Fortitudo che ora con Nazareno italiano castiga dalla lunga distanza primo tiro primo bersaglio fondamentale perché riporta più 4 la Consult Invest 23-19 giocati 3 minuti nel secondo quarto Montegranaro fra l'altro è già nel bonus Campogrande va a sbagliare ma c'è il rimbalto d'attacco sempre di Montegranaro bisogna però andare al tiro perché la palla non ha toccato il ferro maspero penetrazione vada amoroso che appoggia al vento sì sì infatti bisogna essere più attenti in queste situazioni diciamo che quello che manca in questo momento è la Fortitudo è che invece a Montegranaro è la malizia delle situazioni Amici sulle tacche vuol sfruttare la sua fisicità ma c'è un'altra palla persa da parte della Fortitudo Maspero nell'angolo bella palla per Gueia da 3 a spazio fischiato fallo antisportivo ad Alessandro Amici fallo antisportivo lontano dalla palla ad Alessandro Amici e quindi due tiri e possesso di palla per Montegranaro non ho visto non ho il rallenty no neanche io Amici non si sta lamentando più di tanto azardo azardo che la fischiata possa essere stata giusta non vorrei che avesse reagito alla palla persa un po' di frustrazione e quindi due tiri liberi per Maspero e possesso di palla meno male che la tripla non è entrata se no sarebbe stato canestro da 3 e antisportivo a seguire Maspero in lunetta molto lungo il primo tiro libero è già il terzo errore di serata per Montegranaro dalla lunetta si rimane sul 23 a 21 con 6 e 29 da giocare nel secondo quarto Maspero fa uno su due comunque Montegranaro è una squadra mentalmente solida sì e anche tecnicamente soprattutto nei primi 6-7 giocatori non dimentichiamo che Maspero è un ragazzo che l'anno scorso giocava al bottegone in serie B ventenne nativo di Seregno quindi minuti molto molto importanti per il giocatore che anche adesso è in possesso di palla tocca O'Kerafor la palla termina a lato per la prima volta gioca la carta del doppio straniero in campo contemporaneamente coach Gianmarco Pozzeco O'Kerafor e Mechemi in campo O'Kerafor sta per recuperare la palla ma la stessa finisce a lato devo dire mi sembra un impatto molto positivo di Teddy O'Kerafor questa sera sì sì molto reattivo ha dato anche velocità alla spinta in contropiede quindi sicuramente è molto presente e forse più inserito rispetto alla prima partita Corbett Maspero penetrazione appoggia dietro e realizza con una poca reattività difensiva poca reattività ma grande personalità da parte di questo ragazzo del quale abbiamo tessuto le lodi fino a pochi secondi fa ci ascolta non è che gliel'avessimo chiesto a gran voce però lui ovviamente fa il suo e sigla la parità O'Kerafor da tre lungo e non di poco rimbalzo di Valerio Amoroso anzi ha siglato il vantaggio di Montegranaro 24 a 23 si riprepara Mancinelli sul cubo dei cambi è chiaro che c'è bisogno anche dei punti del capitano ribaltamento di lato penetrazione di Corbett nell'angolo Maspero ancora un palleggio ma questa volta la palla è persa riparte Mechemi bella palla per Amici che sbaglia il sottomano non è riuscito a controllare il corpo ma troppi errori davvero da parte della fortitudo poi la lotta selvaggia fra Corbett e Nazarene italiano si lamentano entrambi gli arbitri fanno giocare Campogrande nel dubbio mette tutti d'accordo con la tripla che porta Gianmarco Pozzeco a chiamare time out ma che soprattutto porta all'ottavo punto di Luca Campogrande storie tese l'allenatore arriva a metà campo storie tese fra Corbett e Nazarene italiano e devo dire che l'aspettavo con Treviso nell'ultimo quarto l'aspettavo con Forlì domenica scorsa forse quello di cui c'è bisogno Massimo è anche una scossa una scintilla un qualche cosa che possa un po' far cambiare il refrain di queste ultime settimane vedi quello che si vede anche in questo momento in campo Montegranaro molto lucida molto solida negli obiettivi non si fa impressionare di nulla con calma ha ritrovato il proprio gioco la fortitudo ha commesso troppi errori troppe palle perse c'è almeno una decina di punti che si sono persi per strada fra errori fatti e palloni regalati facili per contropiedi Montegranaro se tu fai tutti questi errori Montegranaro non gli sembra vero di poter correre e di poter andare in contropiede quindi è una squadra molto reattiva e quindi il ritmo lo deve gestire la fortitudo quindi deve schierare la difesa ogni volta e correre quando è possibile 5 minuti e 11 secondi all'intervallo 27 a 23 comanda Montegranaro adesso il pubblico se la prende con Powell che diciamo fallo tecnico è stato segnato il fallo tecnico a Powell gli viene segnato adesso a rientrare le squadre in campo non ho capito bene beh se ha reagito comunque è tranquillo quindi forse diciamo che è un fischio postumo che però noi comunque intelligenti anche gli arbitri non intervenire subito ad aspettare esatto ci sta ci sta assolutamente infatti Ceccarelli non si è lamentato per niente Rosselli però sbaglia il tiro libero del fallo tecnico si arrabbia con se stesso è chiaro coach che la situazione di questa sera è un attimino particolare perché essendoci comunque l'esordio di un nuovo allenatore anche i giocatori di comprovata esperienza sentono implicitamente di voler dimostrare qualche cosa si poi sai la squadra arriva da una sconfitta pesante quindi un po' di disorientamento c'è focalizzare tutto bene non è facile anche qui palla persa fallo in attacco blocchi in movimento fischiato dall'arbitro Triestino Bartoli credo nei confronti di Gandini secondo fallo per Gandini questa è una fischiata pesante due O'Kerafor due Gandini da una parte due per Zucca Powell e Gueye dall'altra più 4 e palla in mano per Montegranaro che in un parziale aperto bella palla sotto di Corbett per Powell che va a schiacciare il più 6 che è anche il massimo vantaggio momento di rottura prolungata per la fortitudo che ha segnato solo 23 punti in 15 minuti abbondanti dopo averne messi 13 in 3 minuti Cinciarini dà più sicurezza alla squadra in campo e quindi la sua assenza ovviamente deve anche riposare non è che sto dicendo che deve giocare per forza però quando lui non c'è la squadra va in confusione errore di Rosselli ma c'è la generosità della fortitudo a rimbazzo d'attacco stavo aggiungendo anche perché Rosselli in questo momento ancora non non sposta gli squilibri della sua squadra ha leadership ma non ha ancora la giusta energia e la giusta forza realizzativa bravo Kerafor non era un canestro soprattutto non era una scelta facile in questo momento quella che si è preso meno 4 ultimi 4 minuti Powell batte Gandini appoggia segna col fallo terzo di Gandini fallo in gemo sì a quel punto lascialo tirare basta cioè terzo di Gandini Powell è assolutamente on fire come si dice in questi casi insomma Gandini un po' in difficoltà questa sera è lungo atletico lungo dinamico non l'ideale nell'accoppiamento difensivo in questo caso terzo fallo per Luca Gandini reinserisce Nazareni italiano ma lì bisogna pensare anche a una marcatura diversa visto che Amoroso in fondo è pericoloso da tre ma non è così reattivo di piedi perché insomma sappiamo che lui ha un po' di problemi e quindi anche fisici quindi forse anche un cambio di marcatura ci può stare sapendo che bisogna uscire su di lui anche se sia un centro sì assolutamente sì le indicazioni adesso dagli arbitri al tavolo l'arbitro Bartoli si sincera con i colleghi Caruso e Wasserman tutto ok terzo di Gacet tutto ok fino a un certo punto perché è meno 6 terzo fallo di Gandini a 4 minuti dall'intervallo per una fortitudo che era partita sul 13 a 4 poi però qualche palla persa di troppo attacco congestionato e Montegranaro che è tornato a giocare la sua palacanestro che per quello che riguarda l'attacco vede la squadra marchigiana invece essere il terzo attacco del girone con 82,4 punti segnati per partita esce Powell 8 punti praticamente filati di nuovo in campo Zucca più 7 massimo vantaggio per la squadra di Ceccarelli forse zona sì zona zona 2-3 al momento sì l'attacca per l'attacca per linee perimetrali la fortitudo con Cinciarini che ha spazio ma sbaglia la tripla sale alto Mancinelli a rimbalzo l'attacco ma sbaglia un rigore poi avrà due tiri liberi perché conquista il rimbalzo offensivo sul suo stesso errore qualche extra possesso importante ma adesso davvero il canestro è piccolo piccolo per la fortitudo sì adesso il problema della fortitudo è rimanere in partita avere pazienza non non innervosirsi anche se Montegranaro ha l'inerzia della partita in questo momento perché comunque in qualsiasi momento può cambiare qualsiasi cosa quindi l'importante è rimanere in partita Mancinelli sbaglia il primo tiro libero c'è bisogno dei punti del capitano forza Mancio ha tolto le castagne dal fuoco in tantissime occasioni quest'anno ma serve anche stasera farlo tutti questi errori in lunetta comunque sono sintomo di nervosismo pesano Mancinelli segna il secondo Don Press della fortitudo che ha ancora un fallo da spendere prima di raggiungere il bonus 3.35 all'intervallo meno 6 consult invest e Montegranaro anche la palla Amoroso sulle tacche questa è brutta ma c'è Nazareni italiano che lo conosce benissimo Amoroso serve una gran palla per Zucca che sbaglia poi però due giocatori della fortitudo toccano la palla la sfera termina lato tra i due litiganti go del terzo e c'è Montegranaro che fa entrare nuovamente rivali al posto di Maspero meglio due che nessuno vero coach però poi se se quella palla si cattura è meglio beh già sono anche lì già sono diversi secondi tiri di Montegranaro su rimbalzi sporchi dove la migliore reattività è sulla squadra ospite Corbet sbaglia da lontanissimo mentre stavano scadendo i 24 secondi palla per italiano ma persa brutta palla servita da Ocherocor ancora ha un mezzo lungo a rimorchi una palla del genere non si serve ancora non li conosce così bene i suoi compagni probabilmente ha un mezzo lungo a rimorchi in corso una palla del genere no no ma Mancinelli la può prendere magari italiano qualche problema in più può averlo Corbet da 3 sbaglia era solo buon per la fortitudo che sarebbe finita a meno 9 tensione che si taglia a fette zona e punteggio bassissimo a 2.42 dall'intervallo ancora la zona italiano sotto per Cinciarini poi taglia dai e vai di Nazarini italiano che avrà due tiri liberi molto ben fatto ma ancora un ritmo che può e dovrà essere alzato nel secondo tempo e mi ripeto sarò banale sarò anche fastidioso per qualcuno ma ci vuole una scintilla perché a questo ritmo un pochettino troppo monocorde secondo me è il rischio che si faccia il gioco di Montegranaro poi oh mi sbaglierò diciamo che Montegranaro che ha l'inerzia e anche il ritmo della partita è molto comoda in questo momento nella partita però la partita è aperta l'importante ripeto è mantenere lucidità perché quando la fortitudo va in difficoltà o a livello offensivo cominciano i problemi comunque se andiamo a vedere le palle perse i tiri liberi l'italiano tira due liberi che a malapena arrivano al ferro il secondo soprattutto onestamente mai visto in tre anni e mezzo Forza Nazareno la tensione c'è lo sappiamo ci sta bisogna provare a vincere questa tensione ci si era riusciti nei primi tre minuti però bisogna anche dimostrare un po' di personalità certo indubbiamente se vuoi vincere un campionato la personalità la devi vedere tocca a loro tocca a loro noi da qua possiamo far poco o meglio possiamo fare il nostro che però ai fini del traguardo finale non ha grande peso 2 e 18 all'intervallo l'unica cosa che posso pensare che sai i giocatori si sentono giudicati oggi perché c'è il nuovo allenatore dicono qua se giochiamo male si si andiamo in fondo alla panchina hai capito quindi questo è un ragionamento inconscio che può fare un giocatore che può condizionare indubbiamente dopo questa partita ci saranno le ultime tre giornate ma questi sono due punti troppo importanti per entrambe le squadre amoroso scato di 24 secondi questo non è un canestro a tempo valido 24 secondi no 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 sono scaduti 24 secondi prima no questo è un errore questo è un errore ci sono prima i 24 secondi questo è un errore il fallo è arrivato dopo i 24 secondi noi siamo sempre credo molto obiettivi ma in questo caso c'è un errore il tavolo conferma eh no no il tavolo ha confermato ma qui secondo me erano prima scaduti 24 secondi rispetto al fallo devo anche dire che quando mancano due secondi allo scadere dei 24 una palla del genere insomma bisogna evitare di consentirla agli avversari e Belia Morosa ha dato una palla al bacio ha fatto veramente un passaggio eccezionale e Corbett ovviamente castiga 9 Corbett 8 Powell a 2.12 dall'intervallo torna a più 7 Montegranaro diventa più 8 con il decimo punto primo giocatore a toccare la doppia cifra il trentenne nativo della Carolina ex Treviglio e Iesi massimo svantaggio per la fortitudo con O'Kerafor che torna sui propri passi ultimi due minuti Rosselli Rosselli tre punti Mancinelli uno solo c'è bisogno dei loro punti segna non convalidato il canestro però ad O'Kerafor sono d'accordo con l'arbitro sì perché il fallo il contatto c'è stato sul palleggio non sul tiro due tri liberi quindi poi bisogna capire se è un'azione continua o no io lì mi fermo perché forse in NBA avrebbero dato buono in questo ultimo anno spesso anche nei campionati della FIBA però questa è la decisione la fortitudo trova con Ted O'Kerafor il suo quinto punto personale meno 7 2 su 2 per O'Kerafor 6 punti ci vuole il paladotto mai come questa serie i ragazzi nel secondo tempo avranno bisogno del paladotto è chiaro questa è una difesa importante perché bisogna che tenere Montegrenaro ecco va benissimo palla persa palla persa da Montegrenaro devi mantenere questo gap 6-4 punti allora sei bene bene in partita sai se aumenta il gap dopo puoi andare in difficoltà a livello mentale assolutamente meno 6 e palla in mano 90 secondi all'intervallo possesso fondamentale l'inertia con la quale si andrà all'intervallo è importantissima fallo della difesa due tri liberi corretto fallo di Traier due liberi per amici importante che la Fortitudo riesca a leggere questo tipo di situazione fallo anche ingenuo del difensore perché bisogna leggere i momenti della partita se la Fortitudo sbaglia questa azione hai la palla in mano sono anche piccoli momenti della partita importanti qui enesimo errore in lunetta altro errore in lunetta fra le altre cose la Fortitudo sta sbagliando molto dalla lunetta con giocatori solitamente infallibili o quasi amici fa 1 su 2 meno 5 lui lo vedo piuttosto bloccato mentalmente Fortale meno 5 era meno 8 poco fa fallo in attacco fallo in attacco su Rosselli molto bravo nel leggere al meglio la situazione del pick and roll Rosselli dice sento sento che era sfondamento sento che era sfondamento da parte di rivali la gestualità esatto secondo fallo per il 31enne nativo di Pesaro ottimo giocatore davvero Servigo da 5 punti e 3 assist a partita per l'ex capitano di Ravenna amici da 3 sbaglia anche lui cerca il canestro per sbloccarsi mentalmente lo cercano un po' tutti però molto bravo vedi Montegranaro che salta amici adesso hanno sbagliato però ci arrivano velocemente amici dall'altra parte sull'errore di Traier Cinciarini da 3 Cinciarini abbraccia Pozzecco time out per Montegranaro Pozzecco in mezzo al campo ad abbracciare un Rosselli ancora dolorante ripeto una scossa una scintilla qualunque cosa chiamatela come volete la fortitudo ha bisogno anche di questo meno 2 time out Cecarelli 51 secondi all'intervallo dicevamo Massimo quell'inerzia con la quale si va negli spogliatoi questo può essere un 6 a 0 di parziale importante sì sì ma infatti la cosa più importante è rimanere in partita poi ci sono dei piccoli strappi che ti possono dare l'energia giusta tra l'altro è stato un canestro senza rimbalzisti quindi è stato anche un piccolo rischio in contropiede però era libero ha fatto bene a tirare è entrata e sono le cose che possono cambiare la partita Massimo io ti voglio chiedere una cosa tornando a qualche anno di distanza però tu stesso sulla panchina della fortituda hai vissuto l'anno dello scudetto si è marciardi recalcati e l'anno successivo molto complicato premetto che qui stiamo sempre parlando di una squadra che è seconda in classifica questa è la premessa doverosa ma come credi anche in base a quella che fu la tua esperienza di allora con una squadra che era comunque fortissima ma che non riusciva a rendere secondo le aspettative e ripeto qui stiamo parlando comunque della seconda della classe che si possa uscire da questo momento nell'ultime tre settimane di difficoltà beh credo che Pozzecchio debba essere abbastanza intelligente da dare spazio ai giocatori sono giocatori esperti sanno quello che devono fare se lui perdonami dare spazio intendi non dirgli troppe cose nel senso che loro conoscono se stessi devono trovare il giusto feeling fra di loro ormai è un anno che lavorano assieme lo sanno quindi gli deve lasciare una certa libertà d'azione chiaramente deve dare le idee generali però a questo punto se lui prova di imbrigliargli troppo li condiziona secondo me amoroso sulle tacche perde palla che bella invece deve lavorare forte sul livello difensivo perché lì tu puoi dare l'impronta anche a livello proprio motivazionale 9 secondi di differenza fra i due tabelloni la fortitudo addirittura la palla del possibile pareggio era a meno 8 pochissimo tempo fa Mancinelli sulle tacche usa il piede perno appoggia ma sbaglia ma c'è O'Kerafor che conquista rimbazzo d'attacco e saggiamente legge bene il cronometro e si può arrivare fino in fondo ultimo tiro 7 secondi 6 amici penetrazione 4 palla persa no c'è Mancinelli da 3 sulla sirena il capitano manda i titoli di coda del primo tempo questa l'abbiamo vista spesso e volentieri a fine partita arriva alla fine del secondo quarto ma è bella bellissima lo stesso per il più uno fortitudo all'intervallo coach Massimo Magri beh vabbè ma insomma questo è il messaggio che arriva all'intervallo come dire noi ci siamo quindi anche Mancinelli non si era visto fino a questo momento ha fatto tanti errori però la zampata ce l'ha messa la squadra c'è indubbiamente chiaramente è un po' bloccata mentalmente per tutti questi cambiamenti che sono avvenuti per le difficoltà anche del passato che è un po' una piccola scimmia che sta sulla spalla però la squadra ha dimostrato che c'è con l'intensità difensiva e con due episodi importanti due canestri consecutive da tre punti il primo canestro dal campo di serata di Stefano Mancinelli è un canestro alla Stefano Mancinelli con il quale andiamo al riposo 9 a 0 di parziale aperto per la fortitudo che era sotto 34 a 26 e chiude invece il primo tempo avanti 35 a 34 le emozioni sono garantite fra una decina di minuti circa per il secondo tempo di questo assoluto big match della dodicesima giornata del girone di ritorno nel campionato di Serie 2 e allora ci rivediamo e ci risentiamo fra poco su TRC e su Radio Netuno state con noi e allora e allora Grazie a tutti. 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 su TRC e a tutti. a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. centimetri. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. sulle sue gambe, confidiamo che non sia nulla di grave una cosa è certa, massimo vantaggio fortitudo coach 58-48 per la prima volta inserata in doppia cifra, fa l'ora di Rosselli, serve una palle canestro con maturità una buona gestione dei palloni spingere quando è necessario altrimenti giocare la palla con pazienza 58-48, ultimi 6 minuti tanto però ancora da giocare tanto tanto, buonissima difesa buona difesa, e amici dall'altra parte serve O'Cherafor che torna saggiamente sui propri passi perché c'era tanto traffico lì dentro all'area, amici ribalta al lato molto ben fatto per Italiano Nazlareno Italiano Castiga in difficoltà a livello difensivo le energie stanno calando più 13 fallo ora di O'Cherafor quarto fallo di squadra per la fortitudo a 5-38 dalla fine della partita più 13 3 triple per Nazlareno Italiano che insomma coach voglio dire qualcosa Nazlareno tanta tanta roba davvero sempre presente è cresciuto proprio anche a livello di maturazione mamma mia davvero bravissimo nel maturare dal gennaio del 2015 quando ha iniziato a vestire questa maglia davvero giocatore protagonista quando vuole ad altissimi livelli in questa categoria ma già dalle scorse stagioni fallora di Rosselli per Rosselli è il secondo fallo squadra però nel bonus e quindi Corbett in lunetta coach però la statistica è molto chiara 14 punti segnati da Montegranaro in 14 minuti e 30 di secondo tempo Corbett si sblocca dalla lunetta ma Montegranaro ora è sotto 61-49 beh sì diciamo è cresciuta la fortitudo come fisicità come lettura anche delle marcature fermato Powell è chiaro che Corbett è rimasto solo che è stato altrettanto tenuto bene da Cinciarini e quindi registrato cioè limitati i due stranieri dei Montegranaro poi per loro è diventato difficile poi in attacco esce Corbett dentro Anguei e vuole andare con l'esperienza del 35enne nativo del Senegal cresciuto a Verona Ceccarelli per questi ultimi almeno questi ultimi 5 minuti e 20 errore proprio concettuale di O'Kerafor che qui serve un palone telefonato a Rosselli che era già stato raddoppiato brutta scelta che da un playmaker non vorrei mai vedere e aveva già chiuso il palleggio la difesa si è chiusa sul passato grandissimo Mancinelli qui direi uno però dei pochi errori di O'Kerafor è di questa sera e questo va sottolineato per me sta giocando una bella partita beh intanto sta guidando bene la sua squadra sta dando sicurezza seleziona bene i passaggi quindi da questo punto di vista è una partita positiva e poi è chiaro che anche lui ha bisogno di conoscere sempre meglio i suoi compagni Mancinelli da 3 eccola qua la zampata ancora una volta del capitano per un più 14 che sa tanto di canestro importante sebbene nella palacanestro 4 minuti e 30 siano lunghissimi Marivali getta le ortiche un altro pallone amici segna col pallo e avrà anche il tiro libero aggiuntivo più 16 il post è già sotto la fossa ma è ancora presto il post è già sotto la fossa ed è la prima scena alla quale speravo davvero di assistere 4.26 lui chiama il time out anche con la fosse e parla con loro grande post grande post davvero ma grande fortitudo davvero in difesa Montegranaro sicuramente in difficoltà stanca però onestamente mi sento di dire che c'è tanto di fortitudo in questo 66 a 50 a 4.26 dalla fine beh sai la difesa della fortitudo a lungo andare ti corrode perché c'è il contatto fisico l'aggressività ha registrato le marcature meglio c'è da dire che Amoroso un paio di canestri li poteva mettere non li ha messi e quindi questo ha mandato sempre più in crisi Montegranaro nel senso che ha avuto un paio di canestri da tre tiri da tre aperti non li ha messi Campogrande è calato anche lui perché poi la difesa si è registrata meglio quindi dopo diventa complicato se non fai il canestro puoi difendere bene però alla lunga paghi e allora per la prima volta fortitudo a più 16 66 a 50 fortitudo che ha lasciato solo 16 punti in altrettanti minuti nel secondo tempo agli avversari che ripeto segnano mediamente 82,4 punti a partita che questa sera sono a 50 a 4,26 dalla fine si continua a sbagliare dalla lunetta altrimenti la fortitudo avrebbe scollinato abbondantemente il ventello di vantaggio ma insomma più 16 è una Montegranaro che sembra in difficoltà a 4,12 dalla fine possono essere un margine rassicurante ma ripeto abbiamo visto pochi mesi fa già quello che è successo con Ravenna anche adesso buonissima difesa veramente errore provocato grande schiacciata di amici grandissima aggressività difensiva buonissimo anticipo su linee di passaggio niente da fare per Montegranaro risposta molto confortante sulla durata da parte della fortitudo perché si è spesso e volentieri detto che alla lunga distanza la fortitudo accusasse un po' di stanchezza fortitudo che invece sta credo che sia più un fatto mentale più un fatto mentale a questi livelli il fisico anche per i 35 anni poi quando ci sono gli stimoli risponde sempre presente il fatto che tu giochi 40 minuti così tra poco ci sono i playoff vuol dire che la squadra comunque anche dal punto di vista fisico sta arrivando pronta bel secondo tempo bel secondo tempo davvero perché come detto quando tieni il secondo attacco del campionato a 50 punti in 36 minuti e 20 secondi c'è tanto 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 merito tuo e il pubblico infatti apprezza applaude identificandosi in questi ragazzi e come era d'altronde fino a qualche giorno fa in Matteo Boniccioli anche in un Gianmarco Pozzeco che devo dire quella linea laterale l'ha già consumata parecchio in questa prima uscita ecco sì anche le scarpe secondo me sì sì mi verrebbe da dire ha difeso più in panchina in questa partita che non nella sua carriera no questo l'hai detto tu dai ma lui sa lui sa ovviamente in che maniera diciamo e facciamo questa battuta finisce qui la partita di Powell che credo questo quinto fallo lo cercasse lo vedo molto stanco lo vedo ciondolante Powell a mezzo metro dall'arbitro questo fallo l'ha cercato non ne poteva più ha letto sì che non c'era più sì lo vedo molto contrariato quinto fallo davvero deliberato e cercato per chi sa di avere quattro falli Powell termina la sua partita con dieci punti e devo dire un solo vero spratto nel secondo quarto poi partita abbastanza negativa però sì però guarda che negativa nella misura in cui la difesa della fortitudo lo ha limitato perché ha avuto anche degli sprati positivi ma quando non ha non ancora la difesa cioè Gandini non l'ha proprio tenuto per esempio ecco quando l'ha preso Mancinelli lui non ha più visto il canestro 1 su 2 per Rosselli 3-13 alla fine più 17 con Amoroso che va dentro scarica nell'angolo ma Campogrande non c'è e devo dire per quello che può contare mentre il post salta e abbraccia Mancinelli in una scena che nel 2004-2005 gli abbiamo visto fare tantissime volte con la canotta della fortitudo poi parla già con la fossa si gira verso la fossa ha già qualcosa da dire senti i due punti in tasca diciamo così il post beh a due minuti a poco meno di tre minuti dalla fine sopra i 17 direi che sì avresti fatto la firma prima della partita indubbiamente sì anche all'intervallo ti dico la verità e credo che sia già Pozzeco Show credo che sia già Pozzeco Show possiamo andare anche verso la panchina della fortitudo sì sì è già iniziato lo show nel senso più giusto del termine perché ripeto calcolando che non si può naturalmente avere serenità quando hai un allenatore che come è accaduto nell'ultima settimana Matteo Pozzioli ho un flash mi ricordo Pozzeco quando lui era alla Summer League negli Stati Uniti che era anch'io a vederlo che ci siamo incontrati e anche lì ha dato spettacolo sì sì era il beniamino di tutti gli spettatori della Summer League diciamo che sono stati tre giorni tosti perché insomma non era mica un debutto facile non era mica un debutto facile questo lo si è dimostrato tale per tre quarti abbondanti adesso il rivali segna da tre punti ma Montegranare sotto di 15 70 a 55 il tempo scorre la fortitudo si avvicina a un risultato che blinderebbe il secondo posto tre giornate dalla fine del stagione regolare si non ricordo anche la differenza canestri perso di 18 all'andata quindi diciamo che si potrebbe anche giocare per questo obiettivo che era per variarizzare converrebbe pensarsi si diciamo che vincere di più di 18 punti oltre che blindarlo lo renderebbe pressoché aritmetico Corbett ha già detto di no quindi Corbett segna ma è più 14 a due minuti dalla fine direi che insomma intanto sono importanti i due punti perché vai a più 4 allora è importante il tipo di prestazione oggi questo è chiaro quindi amici si butta dentro ultimi due minuti subisce il fallo evidente avrà due teleliberi ma la partita dal punto di vista del risultato è finita la fortitudo conquista due punti importantissimi lo avevamo detto alla vigilia e di conseguenza lo ribadiamo adesso rimane nella scia della capolista Trieste Gianmarco Pozzecco adesso va a sincerarsi o meglio va a complimentarsi con tutti i giocatori si gira verso la curva Gary Baronshull perché ha tutto il diritto adesso anche lui di liberare la tensione accumulata in questi giorni oh però davvero stiamo attentando al record di percentuale negativa dei tiri liberi questa sera può solo andare meglio ti dico sì quello indubbiamente errore al primo di amici uno su due 73 a 57 con una valanga di tiri liberi sbagliati 1.45 alla fine domenica prossima saremo a Roseto ma rimanete naturalmente su TRC e su Radio Netuno perché ci sarà sì sì palla fortitudo ci sarà il post partita con le parole di Gianmarco Pozzecco che ovviamente non saranno assolutamente da perdere nel post partita e allora coach a 98 secondi dalla fine della partita credo che un commento a livello tecnico e anche emotivo sulle emozioni vissute questa sera al Paladozza possiamo già guardarle beh direi più emotivo anche che tecnico nel senso che ovviamente non è che Pozzecco abbia stravolto le caratteristiche della squadra dal punto di vista tecnico ha dato continuità al lavoro precedente dal punto di vista emotivo aveva tante valenze non ultimo l'importanza del risultato e da questo punto di vista direi che è positivo certamente alcuni giocatori hanno dato buone prestazioni a livello offensivo altri no ad esempio Amici è un giocatore che può giocare sicuramente molto meglio di quello che non ha dato italiano invece con buoni spraffi con buoni spraffi secondo me allora a livello di energia difensiva io l'ho giudicata complessivamente positiva la prestazione di Alessandro come a livello di energia difensiva a livello realizzativo può fare sicuramente meglio perché lui è un giocatore che comunque ha bisogno di realizzare punti e poi naturalmente c'è uno straniero che ha giocato da pochi minuti e che invece può dare di più anche Fulz può dare di più quindi ci sono giocatori che hanno margini di crescita e questo può far ben sperare certamente molto dipende da uno stato mentale però la squadra oggi ha dato un segnale molto importante a livello difensivo tutti direi tutti nessuno escluso hanno dato quello che dovevano dare con qualche errore ma però mediamente a livello positivo a livello offensivo qualche palla persa di troppo tiri liberi che hanno palesato nervosismo ma una squadra comunque che c'è dal punto di vista mentale è capace davvero di sopperire al nervosismo per i tanti tiri liberi sbagliati con una maiuscola prestazione difensiva che ovviamente poi mentre ci sono a 49 secondi dalla fine due tiri liberi per Stefano Mancinelli che ovviamente poi coach porta anche a potersi esprimere in maniera molto più libera e molto più tranquilla nella metà campo offensiva sì assolutamente ad esempio Mancinelli stasera mi è piaciuto tantissimo ha marcato molto bene lo straniero della squadra avversaria molto presente molto lucido e ha messo due tre zampate molto importanti e molto concentrato anche Rosselli secondo me può crescere rispetto al rendimento attuale non tanto a livello difensivo proprio a livello offensivo è una squadra la fortitudo che ha grandissima potenzialità a livello offensivo ancora non espresse completamente vediamo se riusciranno ad entrare in campo Montanari e Iubi che coach Pozzecco ha messo sul cubo dei cambi bravissimo amici a commettere fallo proprio per dargli la possibilità di entrare bravo Alessandro e applauso per Guido Rosselli e per Stefano Mancinelli gli abbracci di Gianmarco Pozzecco aveva bisogno anche di loro soprattutto dei giocatori più esperti in questo debutto al post e Mancinelli e Rosselli a loro modo hanno risposto presente sì assolutamente hanno dimostrato maturità non tanto volendo fare i protagonisti in assoluto ma facendo un grandissimo lavoro di squadra anche non apparente però sicuramente molto molto efficace 2 su 2 dalla lunetta per Maspero ma la partita come detto è finita 7-4-6-1 vediamo non credo che ci sia tanto da ragionare sul doppio confronto perché ribadisco più 4 a 3 giornate dalla fine della stagione regolare con un calendario anche non impossibile per la fortitudo che ora però perde palle quindi al doppio confronto non ci si pensa più perché c'è il contropiede con canestro di Maspero 18 secondi alla fine meno 11 finisce qui Pozzeco dice di non andare a tirare Occhera for pallegge giustamente secondo me la partita termina qua con la stretta di mano Pozzeco pugna al cielo abbraccia Gabriele Ceccarelli stretta di mano e sirena finale per la prima vittoria subito al debutto di Gianmarco Pozzeco sulla panchina della fortitudo era quello che contava e allora secondo posto sostanzialmente blindato questi due punti ce li prendiamo e questi due punti potranno consentire a Gianmarco Pozzeco di lavorare ancora più serenamente nel corso della prossima settimana perché ripeto signori credetemi non è stato facile vivere le emozioni di questi tre giorni sapendo che questa sera ci sarebbe stato un appuntamento così delicato per la classifica la fortitudo vince ed era ciò che contava nulla di più beh direi che soprattutto Pozzeco avrà capito anche molte cose da questa partita era un test importante anche per trovare il giusto feeling con la squadra sai tu devi gestire delle rotazioni devi gestire dei giocatori certo li hai visti da fuori non li hai mai come dire avuti sul campo quindi anche da questo punto di vista sicuramente avrò avuto dei segnali importanti che saranno utili per il suo futuro di allenatore lo vedete Gianmarco Pozzeco stiamo un attimino qui l'inquadratura poco fa anche per il suo procuratore Virginio Bernardi Pozzeco vediamo dove va adesso corre va in mezzo al gruppo vediamo salta addosso a tutti no va tranquillamente non fa come Fettel in seguito esatto in seguito dai fotografi carica la squadra che ha già caricato in questi giorni e proprio con questa scena finale bellissima del Pozzi in mezzo al suo nuovo gruppo chiudiamo solo momentaneamente la serata che vi abbiamo documentato televisivamente su TRC e che speriamo di essere riusciti a raccontarvi nella maniera più fedele possibile anche su Radio Net 1 torniamo fra 10-15 minuti circa per le parole nel post partita di Gianmarco Pozzeco grazie a coach Massimo Magri grazie a te e buonasera a tutti grazie a tutti quanti da parte di Andrè Tedeschi fin d'ora gli auguri ovviamente a tutti quanti di una felice Pasqua ma come detto ci risentiamo e ci rivediamo fra poco sempre in diretta dagli spogliatoi del Paladonna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti